E' l'unico frutto dell'amor è la banana dell'amor Tutti i costi di Vittorio Emanuele, tutti gli asparrenni e tutti gli uomani La banana, la banana dell'amor Tutto a me questo regalo papà Ma avete sangato io? Ma adesso io mi sono detto che l'azienda di Wurf C'è da chi serve? E' un po' c'è l'ana bordata in argento E poi è un bel servizio Ma c'è un po' di cristalline A me Vabbè io so, noi siamo una famiglia Poi prego, zampo, confusione A me piace A me, eh C'è l'acqua Dormi tutti i mangiati, vieni a casa Facci vedere il tuo cuore fine Il bicchiere su Vabbè Ho completato il cuore Ho completato il cuore E' un po' c'è Se vuoi scrivere il mio Vabbè 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 Tornura Vabbè Vabbè Dove Mentre Non ma c'è malattia è semplice che non vuole ma non sa che i bambini vivono su alcune cose ma c'è se vuole venire e venire ma non c'è la barrenna papà e allora tutto e non c'è la barrenna spiega le letture perché quando c'è la barrenna anche se non sentiamo la questione ma non c'è la barrenna però io non c'è qualcosa che mi sento forte che devo fare il moble e poi voglio dare una bella di frescatura ah se non c'è la teresa c'è un po' di fotografia facendo pure fidanzamento e beh, andiamo giù mettiamo questa scotch ma non c'è la barrenna ma non c'è una stessa e non c'è e io non c'è e vedo che è schifo io non ho più vergogna non c'è una foto che dice dove andare al cesto e poi dice no non andare ma non c'è una foto 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 e tu ma ti può piacere che qua il vabbè non c'è una foto ma la mettiamo in mezzo e poi c'è una foto tu hai la foto che voi credete credete mi faccio sedia tutto qua ma c'è che sei detto perché se non c'è una foto ti va fuori e io non c'è una foto e la foto e la foto e non c'è una foto e la foto che non c'è una foto a me piace e cosa? e cosa non dice non è che è bella? e cosa? non c'è una foto ma che vuoi? no, c'è una foto Non mi piace, non mi piace, non mi piace Ma è un regale a te, non mi piace, no C'è ciò che si sente di dare da Tant'altro in questa persona, sei un ciclo con il giocatore Ma è un costo di ogni cosa Ma è un costo di ogni cosa Ma no, un costo che è proprio Fammi sapere che è un compagno Quanto potrebbe essere in retta? No, 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 scusa, 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 scusa Ma c'è morta io C'è due ruoli per tutta la vita, tuo pupè Come c'è? Ma... 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 Che cosa c'è a me? Chiede! Ma no, Nisa, non voglio dire che sono stato pagato per tant'altro a te Oh no, io la c'è, ci mancherà Non c'è la questione No, io non lo faccio Chi va? Tu a te, mio marito, vuoi tranquillo, non ti ha dato da chi? Ci sento il marito Io sto accompagnando io E io, la tristrista, ce la faccio cercare, non ci vedo mare E io stesso E io lo so Ma, ma... 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 Ma ci vuoi? Ma... Ma sai, ragione? Ma che cosa sto? Ma io... Ma... 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 a tutti va a chiedersi ma la biancetta almeno ci sono le sceglie leviamo le sceglie e mettiamo le sceglie cosa? cosa? questo sei tu la colpa ora fai un'altra cosa ci posso fare se posso aspettare che la caccia della frutta e per quanto? e ci posso fare per quanto? ma no il sceglie della mamma è il panze lo stesso sceglie lo stesso sceglie e cosa? ma hai capito? è arrivato al 78 e la banana è la banana e che? com'è che non ci va? ma tu stai a presenza la bananetta! Posso entrare? Buonasera! Buonasera! Grazie! Vuoi un altro caffè? Sì, grazie! Come stai? Come stai? Non c'è il problema, non c'è il caffè! Non c'è il caffè! Non c'è il caffè! E' finito il caffè! Non c'è! Non c'è il caffè! Non c'è il caffè! Non c'è il caffè! Che sei il caffè! Come metti il caffè! Ti vedi? Sì, sì, ho visto! Tutto baggio! Dove siete andati? A vedere i bamboni! Non mi voleva passare! Mi sono fatto essere... Mi sono messo sul posto! Non si capisce! E' che tu devi stare attenta, eh! Eh, attenta, 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 attenta! Ma... Questi ringhi sotto d'ortè! L'ugine è colgo! Ma non squiccia sta! Vi va tutti! Cos'è tutti? Che tu non sei più come mettere! Che sei sempre? Tu non l'hai detto, attenta! Che sei sempre! No! Io sai che puoi dare... Ti vedi? Ma che spanno tutti da due! Io sai che spanno tutti da due! Io sai che spanno tutti da qui! Vi sento un po' un po' un po' un po' va! E' un po' un po' un po' un po' un po' Metto la roba! E se adesso non stendo più di qua! Non stendo più di qua! Ma sei sempre alla dapa! Ma no, faici dall'acqua da christian! Un po' un po' un po' un po' devi capire! Che deve spannare nel mezzo! E poi da qua! Ma è che apprendi nel mezzo! Adöffi! O a l'acqua! Che dà! Non c'è l'accento! Che più spionare quella è l'acqua! Mi sento! Sì sì, questo lo voglio dire, ma è ancora più scherzo, che mi stanno parlando, mi senti indiferente. Sve dame, che taglio, chami? E va bene. Non riesco a mettere il costo tra la mamma. Non pianto. 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 Ma che sei in Italia a fare due mesi alla stessa che stai? Oh, perché ci vuoi andare nel picco? Dottina calma. Vengo al magazzino che è da un anno per farmi la propria mamma. 45 porti, sì. E' perché voglio che ti rendiamo. Ma ci vuoi, devi spaziole a niente. E' bella comunque, mamma. Sì sì sì, ma ho fatto anche questo ingine. Già faccio male l'ha avuto, poi. O vuoi? Si mette le costo a dare. Perché poi quando diventerà più grossa la pancia dovrà per forza mettere le vestiti. No, ti vuoi. Poi glielo figlio, ti vuoi fare tutto da solo, come te. Ma chi non sa, chi non sa, perché c'è tutto il bistazio. Ma che sei, non lo sa. Ma ce va più a me. Quando è il cibo, mi fa so niente. Ma, ma, quando è il cibo? Perciò non è? Di ma. La mano èpra. Ma, ma, ma? Ma, ma, ma. Ma, 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 ma. Ma, ma, ma. Ma mi sono così cosa, ma cosi che... Ma non è così mi sbaglio, ma non movimento. Ma non è così mi sbaglio. E qua si va fai danziare. Eh. Ma non è così. da quando ci siamo incontrati io? ma dà carca? no 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 si si capisci mamma non si non si capisci cosa vuoi fare io ne voglio svolgere sì sì quello si Ah, da portata la capdoli? Sì. Balla tu colpo allegria, ma carino tu colpo con l'allegria che tu puoi. Scusate. Un cazzo! Magari mi faccio sentire che... è che cosa? Mi ha fatto mezz'ora la questione. Lei mi ha aiutato molto in questo. Solo che lui è un po'... Se va a dire che da due... perchè la capdoli... serve nel giardino, la capdoli... non ti dico come servono a vendita... Beh, che c'è un po' giù subrotto, eh? Madonna! Non c'è la sangia, non c'è l'asfalto... Ma capdoli... Facci la ferma di pace? No, davvero. Ma la fai delle erette le lenzuole, ma la capdoli... Ma come io? Non è assurda, papà! No, altri lupi... Ma questa... la classe... come si vuole essere stessa... Sono giovani, sono ragazze... D'altro che tu non vuoi che chiami a Dado, d'un altro che devo che telefona io dalla capdola. Tu, Dado, non telefoni ci chiedi! E' il mio gatto! Tu la cucina di me lì tre! D'un altro che devo che chiami! D'altro, non ci confronto, che ci vuoi che vieni a scrivere! Ma la cucina di me lì! D'un altro che... 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 D'un altro che c'è t'è, Ducilindri... Dai, t'è... Ma che cosa? Madonna... Mi ha profondato per parlare. Ducilindri... Ma... Ducilindri... Ducilindri è... Ducilindri... Prego! Questa è il carcamone. Ducilindri... E tu vedi qualcosa... Come si, a chi si... Se tu vuoi... la maglia non arriva, la mamma, sempre con questa è l'unico. ma non si faccia decidere che moglie solamente raccomando che sei tutta la runa ma io posso guardare dove vengono perché mi sono messo balla tu quel polegrio macarone ma la tua pazienza è e stai va addosso, questo fatto di telefono mi chiudo l'imposto che non ho di telefono però, ti va a me, sono detto allora, sono detto e da te non ci telefono più c'è mafo e stai va addosso dito, per te settecenti anni boh, che mi serve giusto per sapere, tan buona che voglio cercare settecenti, la verità non mi piace adesso allora si sei? no, la stai, la stai non è un problema Puppetta, non ti preoccupare scusa, gli stai schiamati del tritandere si, non ti preoccupare non mi piace da un anno, da un anno, da un anno, da un anno, a Cinemaria, a Cinemaria Roma, che ti posso dare? E c'è te che ti chiamano la schiena, ma poi, non vedi, e se va a due. Ma allora che date ti comincia a farne? Bene, sì, e siamo andati a casa, siamo andati a casa e... Però c'è ragione Puppetta, così, due volte. Eeeh, dopo che vengono, va? Sì, solo che io sono rimasta un po', perché mentre, sai, faceva... Puppetta mi diceva, ti amo, Puppa. Eeeh, io c'ho paura che questo nome non sia... Nooo, che c'è Puppa, Puppa, come ha detto, Puppa ti amo, no, che pensava di andare a fare. E la parola che si è... Eeeh, che c'è Puppa, Puppa, che deve essere la domanda Puppa da lei. Non mi devo preoccupare per questo. Nooo, no, 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 no. E tu hai scattato un attimo che non lo faceva, allora Puppa, io sono andati. C'è una domanda, che è una domanda, allora... Sì, però voi sai, quando, per esempio... Eh, no, ma... Parlo di Diovo e sponde la cosa. Ah, Enzo? Che c'è? Che è successo, Enzo? Scusa, va a me. Eccetto, vengono su un Diovo, ma io così! E mi ha chiamato Puppetta! C'è una mamma! Sono venuta perché mi ha chiamato lei! Eccetto, che c'è una domanda, che c'è una domanda, che c'è una domanda. Ma sì, ma sì! Eh, ah sì! Ma andò! Vabbè, scusate, lì, Pinti! Ma a me la sono i biglietti, mi sto capace, ma la sembra male! Ma che qua stavo, non è che stavo tanto lento! Io, non l'altro, fai tu! Fai tu, dove veniva il bicchiere? Dai, diamo a me! Vabbè, Enzo! Però poi ti risparmiamo queste cronostiche! Quanto attenzione! Però adesso, Enzo, madonna! Eccetto! Se mille si chiamate! Eccetto! Sempre così, eh, Puppetta! Sempre così si rivolge! Non è un po' gentile? Un po' carino? Io sai cosa ti dico! Tu non devi la vita! Chi sono delicatesse! Chi sono delicatesse che tu non lo sai fare! Quando non hai dalla camma, d'arci! Ma noi ci si va, va, va! Eccetto! Eccetto, Puppetta! Eccetto! 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 Ma però… Ma sapete, eh? Tu sapete che ora hai la fidanzia a fare! Eh? Si, Enzo! Ma non ha fatto! Ma adesso la verità, Enzo, sono detto a Miguel, posso dire? Sì! Come no! Mi sa che tu… del trisandereste, no? Che ha la voce spazio già! Ma… Perché quel combano piace! Ma non c'è la combina, non fa! Come che ha la trisandereste, come? Eh no! io non avevo bisogno di scegliere male. Scegliere? Ma mi credevi che venivano 100 milioni a disposizione? No, no, no. Mi credevi che venivano 100 milioni a disposizione. No, no, no. Mi credevi. Ma la pigra su, no, come ho già visto? Ehi, ehi, ehi. Hai visto Enzo perché sono venuto alla pupetta? E poi ci sono scegliere, fai un milione giusto, sì? No, 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 no. Gli è un milione, ma la cosa. Scegliere, ma la scuola. E' un po' che vuoi. Quando la potestella ci vuoi andare, non mi credo. Tu mi puoi dire un alio o no? Non c'è problema. A te, Pupè. E' un po' che vuoi? No, 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 no. Non mi piace questo. Non mi sono promettivo, perché ho la sbatte e l'amici per la migliaia. Ma Pupè, la lì che non c'è c'è. Non ci so. Ah, è un po' che costruisce l'amici per i nostri figli. Allora, la spia quando sia spassa, vieniRita Pupè sotto che cosa c'è. E' un po' che sigari e lìva. Ma la scia. Allora, quando ce l'ha detto, e che fa il film? E qua poco. E quando mi hai fatto passare, ma non mi hai fatto passare. E come la palla... Maga, non mi hai fatto passare. Come la palla, come la metterla, puoi. E qua, vела, qua. Ma io non mi ne accorgo. E quando mi hai fatto passare, io mi chiederei c'è l'amante di mamma la mamma ha detto mamma ma che dà la prima volta che mi chiede io mi chiede mamma mamma non mi chiede non c'è me menta la mamma ha fatto non c'è tu sei difficile a me non so posso dire ma io ho l'abbiamo se siamo conviati ridere il l'iewende non lo so le immagini del berg i vieti è finito che ci sono pure ma che stai addisca che l'ai merdione e ci siamo fatti un mazzo tanto, siamo su, siamo a fadga, e loro facciamo il segno senza offrire il segno, non rimocchiamo la grande, no, per 10, perché due soldi vabbè, per 10, noi che ci siamo a fadga, la maschilistra vuole su, si vuole a fadga vabbè, proprio all'avanzo si vuole a fadga, che vuole a fadga, poi dici un pelle, terrim, terrim, terrim e io mi sono preso Enzo, è ma io non mi ricordo come ancora, ma tu ti vedrai ma è vero, no, no, non posso mancare niente di mio ritmo, su, non fado la prima chiamate un pochino, io fado la prima ma, ma si, mi dà la prima, ma non ti fai un giro, non ti fai un giro non ti ho fatto ma non si sa per questo ho visto il tuo petto, fa fa la pace a voi ma è che c'è da dire che nella mia moglie c'è questa ragazza di stasera che ti prende quando è fermato le maglie ma io ho fatto un po' ne avevo fai delle منchette la sangue è là ma tu ti dimentico e tu ti dimenticchi vengono a casa tu ti dimenticchi si, ora stavate io comunque ho fulati comunque qualcuno non ho portato comunque è una mamma mi piace proprio io non ho fatto sempre il suo lavoro qui è quello che ti ha fatto questo è quello che ti dimentica non mi piace di nessuno, ma... ma vieni a me, ma vieni tu, va! ma non ci vuoi dire? ma come, non mi vuoi dire tu, fidanzo? l'unica cosa che voglio dire ma raccomando, che non mi chiede mai ieri che fanno tutto questo, sì sì perché ti chiedevi dare, non lasci scattare se tu non ti fai preoccupare ma ci sta a dire, voglio... ci sono state a dire, io ti puoi spostare io, la doggo, la tre se non ti deve essere attesa, però mi chiedo non ci dicendo no, la doggo che mi chiede davvero, non mi chiede a dare scherzare, ma come si è Washington basta ma scherzare io! io, pious, a fare duet e... ma, io ne accanto per il fatto se ho detto, ma domani ha fatto il tuo cibo ma, già, chi deve ognia vo... ognia vo... ognia vo... mi chiesce... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.